Nel febbraio del 1945 si svolge una storica conferenza fra le forze alleate che stanno combattendo contro il nazifascismo. La conferenza si svolge a Yalta, in Crimea, in quello che all'epoca era un territorio sovietico. Per la seconda volta si incontrano insieme i cosiddetti tre grandi, ovvero Roosevelt, Churchill e Stalin, leader rispettivamente degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'Unione Sovietica. I tre si erano incontrati per la prima volta insieme già nel dicembre 1943 nella conferenza di Teheran. La conferenza di Yalta si svolge all'inizio del 1945, quando ormai l'andamento bellico in Europa è totalmente a favore delle forze alleate e si sta iniziando a stringere il cerchio sulla Germania. La conferenza ha come obiettivo quello di iniziare a delineare alcune questioni nel dopoguerra. A Yalta si discute in particolare della situazione tedesca e di quella polacca. Per quanto riguarda la Germania si decide la futura divisione in quattro zone di occupazione nel dopoguerra in attesa di un formale trattato di pace che determini il futuro del paese. Queste zone sarebbero state assegnate a Stati Uniti, Inghilterra, Unione Sovietica e Francia. Viene poi stabilito che la Germania pagherà 22 miliardi di riparazioni belliche. Per quanto riguarda la Polonia, il primo problema riguarda quello dei confini, in quanto all'inizio della guerra l'URSS ha occupato le regioni orientali del paese e non vuole rinunciarvi. Questo problema alla fine non viene affrontato definitivamente a Yalta, mentre si decide che nel dopoguerra il paese sarà guidato da un governo di unità nazionale per traghettare la Polonia verso elezioni democratiche. Lo stesso impegno per dare un governo democratico tramite libere elezioni viene assunto rispetto alla Bulgaria e alla Romania. Infine, a Yalta vengono trattate altre questioni come l'ONU e la guerra in Giappone. Rispetto all'ONU, che nascerà da lì a poco nella conferenza tenuta a San Francisco, nell'aprile-maggio del 1945, si stabilisce che al vertice è rapposto un consiglio di sicurezza in cui siederanno le potenze vincitrici della guerra. Per quanto riguarda il Giappone, che sta ancora duramente combattendo per difendere la sua integrità territoriale, Stalin prende l'impegno di dichiarare guerra al paese nipponico entro tre mesi, sostenendo militarmente gli alleati. Come è noto, l'URSS entrerà effettivamente in guerra, ma da lì a poco gli Stati Uniti faranno esplodere sul Giappone due bombe atomiche costringendo i nipponici ad una immediata resa. La conferenza di Yalta è l'ultima che vede la contemporanea presenza di Roosevelt, Churchill e Stalin, ovvero i tre maggiori protagonisti della guerra a Hitler e Mussolini. Roosevelt muore da lì a pochi mesi, mentre Churchill perde negli stessi giorni di Yalta le elezioni per cui il governo passerà in mano al laborista Atlee. La conferenza di Yalta ha provocato, negli anni successivi, un intenso dibattito storiografico, perché alcuni storici sostengono che sia stato l'inizio della guerra fredda, mentre altri no. Secondo i primi, a Yalta è stata sostanzialmente concessa mano libera ai sovietici di occupare militarmente e politicamente l'Europa orientale, aprendo la strada alla divisione dell'Europa in due. Secondo gli altri, che rappresentano la maggioranza degli storici, a Yalta non è accaduto nulla di tutto questo, come abbiamo visto, e si ragionava ancora in ottica di collaborazione. Piuttosto è stato proprio il mancato rispetto degli accordi di Yalta, a causa della sfiducia reciproca che si instaura nel dopoguerra fra gli alleati, a determinare le condizioni della guerra fredda.